Volotea al via le nuove rotte da Olbia. La compagnia aerea low cost, a partire dai giorni scorsi, ha attivato i nuovi collegamenti verso alcune delle destinazioni più importanti d'Italia, dalle piccole alle medie città fino alle capitali europee. Con l'offerta Summer 2020 sono partiti da venerdì scorso i nuovi voli disponibili verso le città italiane di Ancona, Bologna e Pisa, mentre a partire da oggi è previsto l'avvio di ulteriori nuove rotte per pescare Trieste, successivamente per Bari, Genova, Milano, Bergamo, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Nans. Oltre alle nuove 40 rotte nazionali, 15 saranno in esclusiva per l'Italia, Francia, Spagna e Grecia. Ed è in questi paesi che la compagnia aerea punta ad intensificare i collegamenti con le isole e la terraferma, attraverso voli esclusivi al fine di garantire ai passeggeri le migliori mette vacanziere più ambite in maniera ancora più comoda. Nel pieno rispetto delle normative attuali contro la diffusione del virus, la linea aerea low cost ha potenziato le misure igienico-sanitarie e i protocolli di sicurezza per garantire e tutelare la salute di tutti i passeggeri e dei dipendenti e renderla un'esperienza confortevole sotto tutti i punti di vista. Per avere ulteriori informazioni riguardo alle nuove destinazioni incluse dalla compagnia aerea Volotea, basta consultare il sito www.volotea.com oppure recarsi direttamente nell'agenzia di viaggio.